Quando avevo 17 anni un'amica più grande di me arrivò un giorno con un pacchetto che era evidentemente un libro e dentro c'era un romanzo, si intitolava La vita è altrove di Milan Kundera. Allora quando avevo 17 anni, sì se ne parlava, forse erano gli anni in cui era uscita anche l'insostenibile leggerezza dell'essere da cui era stato tratto un film e quindi aveva portato un po' alla popolarità Milan Kundera, ma io sapevo poco altro, sapevo soltanto che era un nome noto. Ecco quando io a 17 anni lessi quel romanzo ne rimasi totalmente sconvolto, sostanzialmente perché parlava delle uniche tre cose che secondo me possono interessare una persona a 17 anni, a 18 e a 45, cioè il sesso, gli angeli e la politica. E normalmente io ero abituato a pensare per quel poco che leggevo che o un libro parlava di sesso, o un libro parlava di angeli, o un libro parlava di politica. E quindi a seconda del periodo che ero, delle persone che conoscevo, conoscevo quelli che leggevano i libri che parlavano di politica, quelli che parlavano degli angeli e quindi parlavano solo dell'anima e della salvezza dell'anima delle persone, e quelli che leggevano di sesso, o lo leggevano oppure guardavano i giornaletti. Ora, il fatto che uno scrittore riuscisse a mettere insieme tutto questo e quindi togliere agli angeli quel troppo di angelico che hanno, togliere al sesso quel troppo di sessuale che c'è e togliere alla politica quel troppo di politico e di freddo che c'è, ma dicendo che tutte queste tre cose stavano insieme, che nella politica ci sono delle pulsioni, che negli angeli c'è una materialità e che nel sesso c'è un bisogno di comunicazione, ecco, quella cosa lì letta a 17 anni fu un'esplosione. In qualche modo cominciai a scrivere per questo. Oggi, a 45 anni, il libro che ho scritto in qualche modo è la risposta a quella folgorazione dei 17 anni. Allora, poi, Milan Kundera scomparve, scomparve per misteriose ragioni, per cui scompaiono attori, scompaiono scrittori, scompaiono registi. Ecco, per me oggi Milan Kundera è uno scrittore da rileggere, da rileggere per queste ragioni, perché di cos'altro volete leggere se non di sesso, di angeli e di politica. E allora la vita è altrove. Grazie. 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 Grazie.